Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' una domanda troppo facile, eppure non è neanche facile dare una risposta. Cosa c'è scritto alla pagina 1 del manuale del buon imprenditore? C'è scritto su tutti i libri americani. I soldi muovono l'imprenditore e il profitto? No, assolutamente. C'è la voglia della realizzazione personale, del divertimento, c'è la passione e c'è soprattutto la volontà di essere giusto. Questo è quello che muove l'imprenditore. Certamente anche il profitto, ma il punto centrale è la volontà di essere giusto. Possiamo noi essere liberi all'interno di questo Stato italiano? Non lo so. Io guardo la campagna lanciata da Alessandro Gardagna, che si chiama per la fabbrica qui, presidente dell'industriale di Treviso. Montebelluna è una città industriale di Treviso, ha lanciato una grande campagna di comunicazione, abbiamo visto quella città di Treviso e tutta la provincia, i grandi tabelloni 6x3. Ho scritto, basta burocrazia per imprese e cittadini. E questo sintetizza tutto. Sintetizza tutta la difficoltà che hanno le imprese a fare il proprio lavoro. C'è un clima assolutamente respirabile. Un clima per cui se l'imprenditore gli va bene non l'ha. E quindi giù è vasore. Abbiamo visto anche recentemente, perfino Gian Antonio Stella continua con questo disco rotto, abbiamo scritto anche il giorno fa, anche se siamo al di sotto della media europea. D'altro caso non si capisce come le imprese bene potrebbero evalere, visto che si fattura tutto. Ci sono dei controlli incrociati, mostruosi, compiuti da tutte le parti per controllare prima l'ultimo centesimo. Sappiamo benissimo che l'evasione fiscale passa attraverso la macria e la criminalità, che non sono, almeno per il momento, per fortuna di casa. Bene? Che non appartengono all'ultimo centesimo. Quindi, se ti va bene, sei un lavoro, se ti va male, se ti sta bene. Questo è il clima che stiamo respirando. Ma partiamo dalla storia e andiamo a vedere anche questo bellissimo intervento di inizio dove noi siamo qui questa sera. vediamo questa ricavolatura di legno, che noi sappiamo benissimo che è stata inventata e codificata da Andrea Palladio nel 1500. lo diceva in colore secca, la giga, che era una criata palladiana. Certo, esisteva già prima questo, eppure in vera, prima codificata, è la messa nei manuali di architettura. Poi perfino questa colomina, che probabilmente è una colomina abbastanza povera perché questo è un edificio per lavorare, vediamo che è fatta in una grandissima maestria perché ha un basamento più largo, poi è più fusolata, si allarga, quindi c'è un capitello, poi c'è un pulvino. Ebbene, la prima persona che ha modificato la colonna come deve essere fatta, un po' più larga sotto, più stretta, con il capitello sopra, è stato l'architetto romano, vissuto da lontana al vento di Cristo, che si chiamava Vitrubio e non è un caso se questo signor Vitrubio fosse nato a Verona e fosse anche esso un architettoreno. Attenzione che poi il suo trattato di architettura è stato per secoli e secoli nascosto e mai utilizzato ed è per me, proprio non nemmeno parlare, che questo trattato è stato scoperto e l'architettura poi è andata all'interno dei nostri edifici produttivi perché qui, qui probabilmente era una zona dove si lavorava, non sappiamo se c'era una stalla. Io guardandola ho pensato ad una filanda dalla fine dell'Ottocento al primo del Novecento, potrebbe essere stata. Qui c'erano le macchine con le ragazze vestite di nero, gli zocchi di legno, magari arrivavano i barchi da seta, prendevano la seta, la filavano e questo veniva qui a Montebelluna, in una zona che era sicuramente una zona produttiva. Questo siamo noi bene, siamo delle persone abituate a lavorare e quindi questa domanda non è una domanda fatta a casa, quindi noi dobbiamo essere pronti a rispondere in qualsiasi momento. Ho visto Bruno Vespa l'altro giorno in una trasmissione televisiva nazionale che diceva, avevo rappresentato la Lega Nord, io non sono ben vista, però mi sono appoggiato. Sardini diceva, adesso i veneti faranno un'idea, ma perché volete fare questa cosa? Lo sbeffeggiava, gli rideva dietro, cosa volete andare dall'11 al 4%? Ma come ti permetti tu, Bruno Vespa, di parlare così di una grande civiltà che ha questi basamenti? E ancora oggi, che cosa siamo noi oggi? Guardate le scarpe che indosso io, il proprietario è un americano, che pure ha inventato questo brevetto di fare le scarpe utilizzando i teloni del cagno, pure i teloni che vengono usati per fare le pubblicità stradali. Ebbene, queste scarpe qua, l'americano va in America a fare, dove viene in verde e dove viene probabilmente nel distretto della scarpe. Attenzione che qui non c'è solo la fabbrica delle scarpe, c'è anche la fabbrica delle presse per fare le scarpe. E un po' più in là, due o trecento metri, sempre nella zona industriale di Montebelluna, a fornire la fabbrica delle presse, c'è un artigiano un po' più piccolo, che nel suo sottoscata, magari su un caffanone grande così, con quattro o cinque operai, costruisce i sottocomponenti per fare le presse. Questo siamo noi, caro signore Bruno Beccia, che prende in giro i veliti e che ci redini il provincialismo che non ci spenta e non ci appartiene. Mentre parlavano tutti questi signori, io ogni tanto osservavo già da un conditato, questo signore qui, che chiaramente è un intellettuale, un pressatore, uno dei grandi motori di questi movimenti belli. Se la rideva sotto i baffi, e io capivo perfettamente che cosa stava pensando in questo momento. Stava pensando al fatto che qui avevamo un consigliere regionale, non un consigliere regionale qualsiasi, sicuramente un consigliere regionale molto influente, e che esattamente lì avevamo un consigliere provinciale, credo molto influente, che ha partecipato a questa nostra assemblea. Che cosa significa questo? Significa una cosa molto importante. Prima è stato citato De Gasperi, il grande statista, che portò il Trentino nella condizione dell'autonomia, l'autonomia che a volte noi viviamo, noi viviamo. Ebbene, dobbiamo pensare che De Gasperi certamente è stato un grande statista, ma ricordiamoci che nel 1947, a Trento, sono scesi in piazza in due o tre manifestazioni, sono i venti o trentamila persone, che furono portate in piazza da un'associazione come il premiscito 2013. Si chiamava ASA, Associazione degli Studi Autonomistici Regionali. Che cosa significa questo? Che c'era un movimento di intellettuali che aveva studiato l'autonomia, l'aveva messa nello su bianco, l'aveva discursa in assemblee come questa, e alla fine aveva portato la gente in piazza nel 1947 e nel 1948 il Trentino ottenne lo statuto dell'autonomia. Ebbene, quello che noi stiamo facendo questa sera è esattamente la stessa cosa. Non si chiama più ASA, perché non siamo a Trento, si chiama per esempio il premiscito 2013. E le persone che fanno la politica, le persone influenti che fanno la politica, anche se qui c'erano solo 20, 30 persone, 40 persone, ma qui siamo, sono venute e si sono sedute lì con noi, perché hanno capito che all'interno di questi laboratori sta nascendo la politica verde del futuro. che qui, queste persone e anche voi, perché tra voi vedete le persone che fanno la politica attiva, che parlano in convenio, che pensano e portano delle proposte, ebbene, in questa assemblea c'è il pensiero e lo sviluppo di quella che sarà l'azione che tra poco porterà i cittadini in piazza, a far rivendicare i nostri diritti, come fecero il Trentino nel 1947, raccogliendo poi, appena un anno dopo, i risultati. E qua un movimento di pensiero come questo, come l'ASA nel 1947, come il premiscito. Grazie a tutti.